Caschi bianchi in mobilitazione da 24 ore e assemblee programmate tra la giornata di oggi e quella di domani, sigle sindacali diverse che per una volta, su tutto quasi, si trovano a remare nella stessa direzione rivendicando la mancanza di mezzi in dotazione, il personale in carenza cronica e insufficienza di risorse per i vari gruppi. Ma ciò che il corpo della polizia locale di Roma Capitale definisce addirittura destabilizzante e imbarazzante ai limiti dell'immobilismo è la non decisione di questa amministrazione, circa la nomina di un nuovo comandante, il continuo procrastinare rispetto ai fatti, ovvero le dimissioni dell'ormai ex numero uno Buttarelli, avvenute mesi fa e alle quali sono seguite invidi curricula, selezioni, scremature di candidati, fino, sembrerebbe, ad essere arrivate ad una rosa ristretta di nomi. Nomi di esterni al corpo come candidature cresciute professionalmente nella polizia municipale e qui le sigle sindacali hanno idee precise e anche diverse. La nostra posizione in merito è che la politica già si è presa i suoi tempi e deve fare una decisione, la scelta è solo politica, interno o esterno l'importante è che si parta, abbiamo già perso due mesi. Certo, se si fosse applicata la legge regionale sulla polizia locale che prevedeva la costituzione di un albo dei comandanti da cui i politici potevano attingere tranquillamente per scegliere il proprio comandante di corpo, avremmo fatto sicuramente meglio. Per noi cambia molto, un sondaggio fatto a luglio l'83% dei appartenenti al corpo preferiscono, anzi vogliono, un comandante interno perché conosce la realtà, conosce il territorio, conosce le necessità del corpo. Un comandante esterno sarebbe come un commissariamento del corpo e questo è inaccettabile. Intanto, almeno fino al prossimo venerdì, la mobilitazione proseguirà poi in quella giornata, avrà l'incontro con la sindaco marino al termine del quale si saprà meglio se vigili e primo cittadino abbiano ricomposto la frattura.